Bene, allora vediamo se si merita la lode. Mi parli di... Diritto al corto. Sì, allora, diritto al corto... Come lei saprà, si trattava di un festival di cortometraggi socio-giuridici. Sì, infatti... Festival internazionale. Certo, come dicevo, per l'appunto... Grande iniziativa che sta ricevendo centinaia di cortometraggi da ogni parte del mondo, ospiti d'eccezione, patrocini istituzionali di fondamentale importanza... Promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza di Roma 3. Hai voglia di scherzare? Tu pensi veramente che io creda una cosa simile? Dipartimento di Giurisprudenza. Professore, dico la verità! Ti conviene ricordare come sono andate realmente le cose e vedrai questa faccia ancora per molto, molto tempo. Ma, professore, glielo giuro! C'è anche una giuria composta da studenti, la giuria Trentellode! Ah, ti posso garantire che di Trentellode non sentirai più neanche parlare? Fosse l'ultima cosa che faccio! Ok, stop! Buona! Fanno male? Eh... Ok... 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 Ok...